Si dice Roma locuta causa soluta, significa una volta che Roma ha parlato, una volta che Roma ha espresso su qualcosa il suo parere, non c'è più possibilità di mettere in discussione quel parere, perché Roma è la città mondo e questa eredità è stata presa dalla Chiesa e il Magisterio Universale ha sede a Roma, Roma locuta causa soluta. Per tutti? Fanno fatica tutti a accettare Roma locuta causa soluta, in particolare fanno fatica i tedeschi, i quali tedeschi hanno avuto il potere temporale, massimo potere temporale nella cristianità per circa un millennio, quindi sono una nazione imperiale, per vocazione sono una nazione imperiale, perché lo sono stati per mille anni. Se voi entrate in Vaticano c'è il cimitero teutonico e c'è solo il cimitero teutonico, non c'è il cimitero dei Galli o dei Bretoni, c'è solo il cimitero teutonico. Questo indica che le due massime autorità in assoluto dell'Occidente fino al 1800 stavano una a Roma a potere spirituale, l'altra in Germania a potere temporale. Quest'eredità si fa sentire. Con Lutero per la prima volta hanno provato i tedeschi a ottenere per loro la massima autorità spirituale, a Wittenberg insomma di fatto in suolo tedesco. Ci sono riusciti? No, non ci sono riusciti. Hanno fondato diverse chiese nazionali, perché non sono arrivati a Roma, all'universo, però ci hanno provato. Adesso la chiesa tedesca sta facendo quello che chiama un cammino sinodale. E che cosa pretende di attuare con questo cammino sinodale? Pretende di ripartire da Lutero, cioè di dettare legge a Roma, perché Roma non è abbastanza moderna, non è abbastanza al passo coi tempi, non riconosce il matrimonio omosessuale, non riconosce la bontà delle relazioni sessuali fuori del matrimonio o comunque all'interno dello stesso sesso. non riconosce l'elezione dei parroci e dei vescovi ad opera dei fedeli, dei semplici fedeli. E' ora che Roma finisca, se la finisca con questa storia che deve dire sempre l'ultima parola. Roma ha avvisato la chiesa tedesca che è una chiesa ricca, ricchissima. È una chiesa ricca di persone, ricca di fedeli, poverissima. Sono pochissimi i fedeli tedeschi, eppure i vescovi tedeschi pretendono di avere la lungimiranza di decidere, il discernimento di decidere per tutti. Roma non è d'accordo, Roma ha dato i suoi segnali ai tedeschi, a questo cammino sinodale tedesco, che insomma non può accettare la maggioranza delle cose che loro propongono, ma i vescovi tedeschi hanno deciso, noi andiamo avanti per conto nostro perché la verità è con noi. Questo è.